e cominciamo dai capelli poi le faccio legare bene i capelli naturalmente lisci proprio spaghetto io sono sempre invidiato dalle porte per il boccolo non le stanno neanche vento secondo e dopo il tempo di finirla deve essere soggiorno di via cerco di legarli il meglio possibile e poi cerco di legare e poi cerco di legare cominciamo con il rilassare la schiena quindi fare proprio delle pezze e faccio anche un po' di tipo d'appi che ho scritto mi ha dato tantissimo mi ha dato tantissimo che mi ha fatto appunto di vedere il genere perché fra una cosa e l'altra non riesco mai ad organizzarmi perché per fare questi aiutassativamente ci vogliano altre persone io non posso occupare il mio massaggio della schiena il meglio di più difficile ad organizzare l'estate ancora di più perché tra gli altri e cose varie e si rinca abbucicato seguo la forma del top che poi va con la aspettando gli altri non è veramente grande Grazie a tutti. E adesso potrò usare un pochino il pennello, sembra proprio borato. Ho fatto questo pennello che ho anche abbinato con i top. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Ho visto su un canale che si chiama Semi da Coco. Ho visto questo canale che fa video sempre praticamente con modelli. Con persone che fanno da modelli. E fa tutte queste tipo un obbligo dottore o un visioterapista. E' bellissimo, sono bellissime. E' un blocco un po' unita nel suo canale. Oggi è tutto rosa. E' un po' un po' un po' un po' un po'. Bando fare leggermente pressione. Ma equilibra l'aria delle scapote. Ma le scapate. Ok. e il solito è il punto in cui fa più male la schiena o almeno per me è il punto in cui si accura il mio stress e il mio male e anche magari ho avuto una cattiva postura quindi quando mi devo fare anche un altro passaggio alla schiena e quando magari mi fa male vado sempre lavorare in questa zona e quindi mi fa male vado sempre e quindi mi fa male vado sempre adesso andiamo a disegnare andiamo a disegnare qualcosina e andiamo a scrivere qualcosina scriviamo la prima massaggio e andremo un po' da questa parte ok G I O massaggio massaggio E o